Come sostituire in modo naturale il sequestrante di durezza? Che è un ingrediente che viene messo solitamente all'interno dei detersivi, che è molto inquinante e serve per requisire i metalli pesanti e il calcio che si trova dentro la nostra acqua. La durezza dell'acqua è proprio questa, cioè la quantità di metalli presenti dentro essa. E non ce ne rendiamo conto, ma spesso anche quando facciamo la doccia l'acqua comunque contiene queste sostanze e comunque in piccolissima parte ovviamente vengono assorbite dalla nostra pelle. Per lavare senza avere questo problema è possibile fare un ammorbidante naturale che non crea tutta una serie di problemi di inquinamento. Tanti anni fa, forse qualcuno se lo ricorda, negli anni 70 ci fu lo scandalo delle alghe, del proliferare delle alghe nel mare Adriatico. In realtà questo fu dovuto a uno scompenso provocato dai detersivi. Tant'è vero che i sequestranti di durezza in particolar modo furono inseriti all'interno dei prodotti in minor quantità o comunque in una quantità un po' meno lesiva per l'ambiente. Comunque noi ce lo facciamo in modo naturale, semplicemente acquistando l'acido citrico, sempre meglio sfuso. Io lo compro nelle ciotoline, nei negozi che vendono gli sfusi. Si trova al ferramenta, nei negozi bio, anche in farmacia. È più economico sempre, non in farmacia, ma in tutto il resto. Costa dai 3 ai 5-6 euro al chilo. Per questa ricetta ne servono 200 grammi, l'acido citrico è un elemento che viene estratto dagli agrupi, quindi si trova nel succo di limone, d'arancia. Dobbiamo prendere 800 grammi, quindi non millilitri, grammi di acqua distillata, inserirla in una bottiglia, meglio se di vetro scuro, e con un bel imbuto travasiamo il nostro acido citrico, in questo modo. Ok, abbastanza semplice. Mentre scende vi posso dire come viene utilizzato. Quanto fa tutto da solo? Allora, semplicemente quando facciamo un lavaggio e lavatrice, ne aggiungiamo nella vaschetta appunto dell'ammorbidente una tazzina da caffè. Questo ammorbidente, oltre a essere utilizzato per lavare i panni, per ammorbidirli, possiamo utilizzarlo anche come brillantante lavastoviglie. Quindi un 2 per 1, sempre abbastanza economico e facilissimo da fare. A proposito del facilissimo da fare, mi diverte molto quando mi dicono Eh, ma tu non ce la fai, ma come fai a far tutto? Io ho due lavori, quattro associazioni, faccio teatro, ballo swing, eppure faccio autoproduzione. Perché? Perché l'autoproduzione si fa in poco tempo, basta conoscerle le cose. Quindi se vorrete conoscerle anche attraverso il libro fatto in casa, a me farà di certo piacere. Quindi, semplicemente dobbiamo poi shakerare questo... Aiuto! Shakerare il tutto, magari con un tappo, continuando a farlo. E niente, basta. Il nostro ammorbidente è pronto. Fatto in casa. Fatto in terrazza. Fatto in terrazza. Fatto in terrazza. Grazie a tutti